E' la giornata dei derby in Serie D. La terza giornata del Girone F propone infatti tre confronti tutti abruzzesi. Sulla carta la gara meno equilibrata è quella del Gran Sasso d'Italia Italo a Concia dell'Aquila, dove la squadra di Battistini riceverà i nerostellati. La squadra pratolana è reduce dalla sonora batosta con il Francavilla e non sarà facile metabolizzarla. Il presidente Pace, a tal proposito, ha tenuto la squadra al rapporto in settimana. Certo, c'è lo stimolo di giocare contro la squadra del capoluogo. Sul fronte rosso-blu le preoccupazioni principali giungono fuori dal campo con il closing societario che rischia di slittare, anche se l'incontro di ieri tra i soci entranti e quelli uscenti a Palazzo Fibbioni, nonostante alcune frizioni, ha portato a qualche aspetto positivo, come la possibilità di chiudere definitivamente il bilancio sociale, atto tra quelli necessari prima della chiusura. Più equilibrati gli altri due confronti. Al Mariani-Pavone, secondo test interno consecutivo per il Pineto, ancora secco di punti. Confronto tutto adriatico con la vastese di Colavitto, migliore delle abruzzesi con quattro punti. Una squalifica per parte della Quercia per i padroni di casa, bagaglini tra gli ospiti. Il Pineto in settimana ha riabbracciato il centrocampista classe 92, Francesco Esposito, tra i migliori dello scorso campionato e che aveva iniziato questa stagione nel Gravina. Per Amaulo e la sua squadra, già gara da non fallire per non rendere complicatissimo l'avvio di stagione, ma la vastese è tosta come la tempra del suo allenatore. Al Valle Anzucca il Francavilla se la vedrà col San Nicolò, clima diverso per le due squadre. L'undici di Campanile non ha ancora conquistato punti e sarà privo di Cala e soprattutto di Capitan Petronio. Inizio complicato sotto più profili e partita già complicata contro un Francavilla che di contro ha il morale alto dopo la goleada di Sulmona. Non convocato l'ultimo arrivo Velardi, il tecnico iervese potrebbe ridare fiducia allo stesso undici che ha battuto i nero stellati, facendo partire dalla panchina, ancora una volta Menta, che nel frattempo sta salendo di condizioni. Infine l'Avezzano attende al De Marsil Monticelli. Per non perdere ulteriore terreno dalle rivali, obbligo dei tre punti per la squadra di Giampaolo che in settimana ha toccato le 233 tessere di abbonamento, superando le 229 dello scorso campionato. Tra i marchigiani, squalificato Sosi. Nell'Avezzano, appiedato Verruschi. Sfida nella sfida, quella tra i fratelli Guerra, Nicola dell'Avezzano e Walter del Monticelli.